Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale youtube di Keep the Planet io sono Alessandro Nicoletti, il fondatore di questo canale che parla di natura e conservazione ed è un video questo che non avrei voluto fare perché se tutta la vicenda rappresenta un grave problema per la conservazione ambientale in Italia, ovviamente mi sto riferendo alla vicenda degli orsi in Trentino dell'Orsa GG4 che avrebbe ucciso secondo la ricostruzione ufficiale della provincia di Trento il povero Andrea che purtroppo è la sola vittima accertata di questa tragedia, oggi faccio questo video mentre in verità non lo avrei voluto fare perché sinceramente tutta la vicenda sta diventando un po' paradossale, ho fatto un video precedentemente qui sul canale che praticamente spiegavo tutte le problematiche e tutto quello che sta succedendo in Trentino e non solo intorno a questa vicenda una tragedia all'italiana per via di tutte diciamo le colpe e gli sbagli che nel corso degli anni la politica ha fatto e che ha quindi portato ad una situazione diciamo problematica di convivenza tra gli orsi e la popolazione locale poi sfociata in questa tragedia ma faccio questo video perché ho appena letto le notizie che stanno girando ora in rete circa l'ultima perizia fatta da un'associazione animalista che si chiama leal personalmente non la conoscevo la lega antibivi sezionista o qui sotto il loro diciamo post il loro annuncio che secondo una loro perizia l'orsa jj4 non sarebbe colpevole non sarebbe l'orsa che ha ucciso il povero andrea questo secondo la perizia veterinaria forense dalla loro rappresentante legale aurora loprete come sto leggendo qui praticamente afferma questa associazione che la dentatura di che la veterinaria ha riscontrato su durante la sua autopsia non corrisponderebbe alla dentatura dell'orsa jj4 perché secondo quest'analisi il morso della dentatura sarebbe più grande e quindi probabilmente derivante da un esemplare adulto maschio e quindi non femmina e questo scagionerebbe la l'orsa jj4 ma questa è una vicenda purtroppo grave perché da una parte la provincia il corpo forestale ha affermato che le prove scientifiche erano diciamo certe e quindi dalle analisi genetiche non c'erano dubbi che era gg4 la colpevole ora questa lega anti vivi sezionista afferma il contrario tramite i loro tecnici e questo quindi crea una situazione paradossale perché se fosse vero ovviamente qui il condizionale è d'obbligo non c'è non ci sarebbe veramente più scuse per difendere le autorità pubbliche dall'altra parte viste anche le azioni che alcune associazioni animaliste si si fanno protagoniste in tanti casi dove la logica viene meno l'unico approccio che possiamo tenere specialmente noi che abbiamo a cuore la conservazione ambientale la tutela della fauna selvatica e la pacifica convivenza con l'essere umano un atteggiamento di attesa e di pazienza perché questa situazione già abbastanza negativa che coinvolge molte persone c'è stata la tragedia c'è stato ora ho letto che la famiglia giustamente di la famiglia di andrea giustamente ha deciso di proseguire legalmente denunciando per diffamazione tutte le persone che hanno attaccato i comportamenti di andrea ma ovviamente non si può attaccare una persona che ha perso la vita e non si ha nessuna conoscenza degli eventi quindi in maniera empirica quindi giustamente la famiglia ha deciso di andare avanti denunciando per diffamazione tutti quei personaggi che si sono riempiti la bocca di parole senza senso e quindi purtroppo con questa nuova notizia che secondo la la perizia di questa lega animalista antivivisezionista non sarebbe gg4 ma se questo fosse vero cosa che io non dico perché ora diciamo la confusione regna sovrana se c'era una certezza era quella della colpevolezza di gg4 di aver la parola colpevole è una cosa diciamo riferita all'essere umano responsabile diciamo che se era certo scientificamente accertato che l'orso a gg4 era la responsabile dell'agguato che quindi giustamente è stata rimossa dal dall'ambiente per prevenire ulteriori problematiche oltre ulteriori tragedie se fosse minimamente vero quello che affermano la lega leal sarebbe gravissimo dall'altra parte sarebbe gravissimo se quello che affermano non sia vero sarebbe gravissimo perché significa strumentalizzare una tragedia per portare avanti le proprie ideologie animaliste e sarebbe gravissimo perché in ogni caso il problema e le conseguenze saranno sempre e solo contro la conservazione della natura perché oggettivamente si sta perdendo un po di credibilità bene ragazzi per questo brevissimo video inaspettato e non voluto è tutto domani pubblico un video circa i miei pensieri su cosa penso su certi atteggiamenti animalisti per fare chiarezza sto vedendo che in italia il dibattito intorno sulle tematiche della conservazione gira tanta tanta confusione tanta ignoranza perché ci sono le emozioni di mezzo e quindi si perde un po la ragionevolezza nelle opinioni quindi ho deciso che prossimamente quando avrò un po di tempo libero dal lavoro farò un mega video riassuntivo che durerà probabilmente due ore dove racconterò tutte le situazioni classiche della conservazione ambientale cercando di eliminare tutti i falsi miti le leggende metropolitane intorno a tante tematiche ambientali spero che questi video siano poi di gradimento perché spesso e volentieri chi ama gli animali e chi vorrebbe difendere gli animali spesso e volentieri lo fa in maniera sbagliata e quindi credo che sia giusto parlare di queste tematiche bene questo video è tutto se ti se vi interessano argomenti come natura e conservazione volete avere una panoramica più oggettiva e ampia possibile circa la tutela della natura io sono alessandro e questo è keep the planet iscrivetevi al canale condividete il video e mettete like ciao e buonanotte vista allora